Sessore Veri, proseguono gli screening di massa nella nostra regione, la prossima settimana toccherà a Pescara, un utile strumento di valutazione per vedere quella che è la situazione attuale nella nostra regione? Sì, uno strumento valido perché lo screening che abbiamo attivato sia prima nella provincia dell'Aquila di Teramo, adesso si estenderà anche nella provincia di Pescara e di Chieti. È fondamentale perché andiamo a cercare quei casi asintomatici, per cui è un importante strumento di screening. I dati sul numero dei positivi in Abruzzo sono in discesa costante ormai da diversi giorni. Questo vuol dire che le misure restrittive che noi abbiamo messo in atto sin dal 18 novembre sono state fondamentali per questa riuscita. Da diversi giorni assistiamo anche ad un progressivo aumento del numero dei guariti che sono in diverse centinaia, quindi in aumento. Purtroppo resta ancora alto il numero dei decessi, però questo è un dato anche a livello nazionale che viene registrato. A mio parere però il numero più importante è quello che riguarda la saturazione dei posti letto ospedalieri. L'ultimo dato dell'Agenas, che è quello proprio relativo ad oggi, porta a una saturazione dei nostri posti letto pari di terapia intensiva, pari al 31%. Quindi vuol dire che siamo scesi di molto e siamo ormai a quella che è appena di un punto rispetto alla soglia dell'allerta che c'è a livello nazionale. Lo stesso dicasi per i posti di terapia di medicina, diciamo dell'occupazione dei posti a livello Covid di medicina. Quindi dati importanti che scendono su tutta la nostra regione. Numeri che potrebbero essere anche da zona gialla per l'Abruzzo, assessore, però resta la zona arancione. In prospettiva del Natale cosa si sente di dire? Gli indicatori che noi quotidianamente andiamo a trasmettere a livello del Ministero sono indicatori costanti e quindi che stanno a determinate, senz'altro elementi da valutazione come zona gialla. Adesso spetterà la gabbina di regia e quindi al Ministero dare una valutazione per quanto riguarda la nostra regione. Da un punto di vista della sanità vuol dire che abbiamo messo in atto un giusto tracciamento ma soprattutto abbiamo preso in carico quei pazienti che sono risultati immediatamente positivi ed è questo l'elemento fondamentale di una sanità appropriata. Grazie a tutti.